Il cicotto è un presidio dal 2012, sono le parti del maiale che non vengono messe nella porchetta, all'interno come farcitura, vengono tagliate, lavate, sezionate, messe sotto la vasca di cottura. Una volta che la porchetta viene infornata, queste parti tagliate e lavate al naturale prendono il gusto e i sapori di tutti gli oli che scendono dalla porchetta durante le 8-10 ore di cottura. Quindi tutti gli aromi e le spezie fanno sì che scendendo nelle 8-10 ore di cottura aromatizzano e fanno prendere sapore e cottura a questi prodotti. L'antico risale al 600 più o meno questo prodotto, con il cicotto inizialmente ci si chiamava il recipiente addirittura, poi piano piano ha preso il nome invece del prodotto. Risale al 600 perché veniva utilizzato anche dai contadini come piatto unico perché è un piatto energetico.